Cominciamo! Wallets! Vai Vico! 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 E l'emozione di vedere la pista, le coppie, si riferono, professional division, danze standard. E intanto invitiamo tutte le coppie Over 18 Professional Division nel backstage. E l'emozione di vedere la pista, le coppie, si riferono, professional, danze standard. E l'emozione di vedere la pista, le coppie, si riferono, di par caught, si riferono, dannze standard. meraviglioso compiere Viesi uomini Bésame, bésame molto Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a verte, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a verte, perderte después Bésame, bésame mucho 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.